Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. Loredana Lecciso ha rivelato di aver rifiutato l'opportunità di partecipare all'Isola dei Famosi per restare accanto a Albano. Quest'ultimo le ha proposto di sposarlo, ma entrambi si sentono già uniti mentalmente dopo oltre 23 anni insieme. Preferiscono godere della serenità della loro vita familiare, trascorrendo serate tranquille a Cellino, dove Albano cucina e suona la chitarra. Loredana ha un anello che rappresenta il loro amore duraturo, un pegno d'affetto da parte dei loro figli quando partiva per lavoro. Nonostante i sacrifici fatti per la loro relazione, non ha mai rimpianto nulla, essendo madre di tre figli meravigliosi e una donna soddisfatta e in armonia con se stessa. Anche se ha rifiutato l'Isola, riflette sull'idea di tornare in televisione con un progetto personale, un sogno che spera di realizzare in futuro. La priorità per ora è stare vicino alla famiglia, supportando sua figlia Yasmin nel suo percorso musicale e godendo della compagnia di Albano e dei loro cari a Milano.